Tra le scintillanti luci di Hollywood, Patrick Swayze emerse non solo come un attore di talento, ma anche come un fenomeno culturale. Con le sue indimenticabili interpretazioni in film iconici come Dirty Dancing e Ghost, Swayze conquistò i cuori del pubblico di tutto il mondo. Tuttavia, dietro il luccichio e il glamour, si celava un uomo tormentato da demoni personali. Esploriamo dunque il percorso enigmatico di Patrick Swayze, svelando le difficoltà che hanno segnato la sua vita e carriera e rivelando infine le verità commoventi che hanno definito la sua eredità. Unisciti a noi per scoprire i tragici segreti che hanno segnato la fine della vita e della carriera di Patrick Swayze. Attore, ballerino e cantautore americano, Patrick Wayne Swayze ha lasciato un'impronta indelebile nell'industria dell'intrattenimento, conosciuto per la sua versatilità e carisma, Swayze eccelleva nell'interpretare una vasta gamma di personaggi, dai protagonisti romantici agli eroi d'azione e figure comiche. La sua magnetica presenza sullo schermo catturò il pubblico mondiale, guadagnandosi riconoscimenti e ammirazione durante tutta la sua carriera. Uno dei ruoli più iconici di Swayze arrivò nel 1987 con Dirty Dancing, dove interpretò l'affascinante e talentuoso istruttore di danza Johnny Castle. La sua straordinaria performance non solo mise in risalto le sue eccezionali abilità di ballerino, ma consolidò anche il suo status di rubacuori e protagonista. La chimica tra Swayze e la sua co-protagonista Jennifer Grey fu palpabile, rendendo Dirty Dancing un classico amatissimo. Tre anni dopo, Swayze recitò in un altro ruolo memorabile nel film romantico paranormale Ghost. Il suo ritratto di Sam Witt, un uomo assassinato che ritorna come fantasma per proteggere la sua amata, toccò profondamente il pubblico e gli valse il plauso della critica. La performance toccante di Swayze fece di Ghost uno dei film con i maggiori incassi dell'anno e consolidò il suo status di grande star di Hollywood. Oltre a essere un attore, Swayze era anche un talentuoso cantautore. Coscrisse e registrò la celebre canzone She's Like the Wind, presente nella colonna sonora di Dirty Dancing, che divenne un successo nelle classifiche. I suoi contributi musicali aggiunsero un'ulteriore dimensione alla sua eredità artistica, cementando il suo ruolo di intrattenitore poliedrico. Ma la sua carriera e la sua vita furono bruscamente interrotte dal peso delle sue lotte personali. Per comprendere davvero il suo percorso, dobbiamo partire dall'inizio. Nato il 18 agosto 1952 a Houston, Texas, Patrick Wayne Swayze crebbe in una famiglia profondamente radicata nelle arti. I suoi genitori, Patsy Swayze e Jesse Wayne Swayze, ebbero un ruolo cruciale nella sua crescita. Patsy, famosa ballerina e coreografa, trasmise a Patrick l'amore per il movimento e l'espressione fin dalla tenera età. Jesse, un disegnatore tecnico, provvedeva al sostentamento della famiglia. Crescendo nel quartiere di Oak Forest a Houston, Patrick frequentò diverse scuole, tra cui la St. Rose of Lima Catholic School, la Oak Forest Elementary, la Black Middle School e la Waltrip High School. Fin da giovane, Swayze mostrò una passione innata per la danza e il teatro, dimostrando un talento naturale per il movimento e la performance. Dedicandosi con impegno alla danza e al teatro, Swayze trovò un profondo senso di scopo nel mondo delle arti performative, fu qui che scoprì la sua vocazione, canalizzando la sua energia creativa per perfezionare il proprio talento e padroneggiare le complessità del movimento, dell'espressione e del racconto. La sua introduzione alla danza e al teatro rappresentò le fondamenta di una carriera straordinaria, segnata dalla passione, dalla dedizione e da un impegno costante verso il suo mestiere. Le sue prime esperienze nelle arti performative avrebbero modellato il percorso della sua vita, indirizzandolo verso il ruolo di icona culturale e figura amata nel mondo dell'intrattenimento. Nonostante i suoi numerosi interessi e talenti, tra cui il pattinaggio artistico, il balletto classico e la recitazione in spettacoli scolastici, il percorso di Patrick cambiò inaspettatamente quando un infortunio al ginocchio interruppe il suo sogno di ottenere una borsa di studio per il football. Nonostante questo ostacolo, si rivolse alle arti marziali, tra cui il wushu, il taekwondo e l'aikido, come sfogo per il suo spirito competitivo e i suoi conflitti interiori. Ma la sua vita prese una svolta completamente diversa. Nel 1972 Patrick si trasferì a New York City per perfezionare la sua formazione di danza presso le scuole Harkness Ballet e Geoffrey Ballet. Il suo talento attirò l'attenzione del coreografo Elliot Feld, che immaginava una collaborazione tra Patrick e il leggendario Mikhail Baryshnikov. Tuttavia, una ricostruzione del ginocchio temporaneamente frenò le sue aspirazioni. Questo non fermò però la sua ascesa verso la celebrità. Il suo debutto professionale come ballerino per il Disney Theatrical Group segnò l'inizio di una carriera straordinaria. Swayze passò poi al palcoscenico, interpretando il ruolo di Danny Zuko nella produzione di Broadway di Greece, conquistando il pubblico con il suo carisma e talento. Nel 1979 fece il suo debutto cinematografico nel film Skate Town USA e lasciò il segno anche nel mondo della pubblicità con uno spot ambientato in una discoteca. In televisione recitò in serie come Mass H e nel film per la tv Return of the Rebels. Un altro momento cruciale nella sua carriera fu il trasferimento a Los Angeles, dove cercò di passare dal teatro al mondo del cinema e della televisione. Nonostante le difficoltà iniziali, la sua determinazione lo portò a ottenere i primi ruoli televisivi, gettando le basi per una carriera di successo. Nel corso della sua carriera in rapida ascesa, Patrick Swayze affrontò la perdita devastante del padre nel 1982, un evento che lo segnò profondamente. Lottando per gestire il dolore e la sofferenza derivanti dalla scomparsa del padre, Swayze trovò conforto nel lavoro, dedicandosi con rinnovata energia e determinazione ai suoi impegni recitativi. Attraverso le sue interpretazioni, riuscì a canalizzare le sue emozioni, utilizzando la recitazione come una forma di catarsi e espressione personale. Inoltre trovò sostegno nell'affetto dei suoi cari. Nonostante queste difficoltà, la carriera di Swayze continuò a svilupparsi e nel 1983, grazie alla sua partecipazione a progetti come I ragazzi della 56esima strada, si ritrovò sotto i riflettori di Hollywood. In questo film interpretò il fratello maggiore dei personaggi di C. Thomas Howell e Rob Lowe, dimostrando grande profondità drammatica. Più tardi, nello stesso anno, interpretò un addestratore del corpo dei Marines in Uncommon Valor. Tuttavia, il vero successo arrivò in maniera inaspettata con Dirty Dancing. Swayze era inizialmente titubante nell'accettare il ruolo, temendo di essere stereotipato come ballerino, poiché cercava di affermarsi come attore versatile. Alla fine, però, riconobbe il potenziale del personaggio e del film accettando la parte. La sua interpretazione di Johnny Castle si rivelò un momento cruciale per la sua carriera, portandolo alla fama internazionale e consacrandolo come icona di Hollywood. Con Dirty Dancing, Swayze offrì una performance straordinaria, conferendo profondità, complessità e carisma al personaggio di Johnny, ottenendo ampi consensi e raggiungendo lo status di superstar. Il successo travolgente del film cambiò radicalmente il corso della sua carriera e consolidò la sua eredità come una delle figure più amate e iconiche dell'industria cinematografica. Anche dopo tanti anni, Dirty Dancing, film romantico-drammatico del 1987, rimane un classico senza tempo amato dal pubblico di tutto il mondo. Diretto da Emily Lardolino, il film racconta la storia di Frances Baby Houseman, interpretata da Jennifer Grey, che si innamora del maestro di danza Johnny Castle, interpretato da Swayze, durante una vacanza estiva in un resort. Girato nelle incantevoli location di Lake Lure, Carolina del Nord e Mountain Lake, Virginia, Dirty Dancing conquistò il cuore degli spettatori fin dalla sua uscita. Presentato al Festival di Cannes nel maggio 1987, il film ricevette elogi dalla critica e ottenne un enorme successo al botteghino, incassando oltre 214 milioni di dollari a livello mondiale. Le interpretazioni di Grey e Swayze furono lodate e la loro chimica sullo schermo diede vita ai personaggi di Baby e Johnny con autenticità e fascino. Anche la colonna sonora del film riscosse grande successo, con album multiplatino e premi prestigiosi come l'Oscar, il Golden Globe e il Grammy per la canzone The Time of My Life. Il successo di Dirty Dancing diede vita a un ricco franchise che continua a coinvolgere il pubblico in vari media, tra cui serie TV, competizioni di danza e il prequel Dirty Dancing Havana Nights, nonché una produzione teatrale di successo. Nonostante le difficoltà incontrate durante le riprese, come condizioni meteorologiche avverse e sfide logistiche, il cast e la troupe affrontarono il lavoro con dedizione. Swayze, che insisteva nel fare i suoi stunt, si infortunò al ginocchio e dovette essere ricoverato in ospedale. Tuttavia, malgrado le difficoltà, l'alchimia sul set tra Swayze e Grey, inizialmente tesa, si riaccese grazie all'intervento di produttori e registi, culminando in interpretazioni che conquistarono il pubblico mondiale. Alcune delle scene più memorabili del film nacquero dalla spontaneità, come la risata incontrollabile di Grey durante una scena con Swayze, che fu mantenuta nel montaggio finale, conferendo un tocco autentico e adorabile al film. Dirty Dancing divenne un fenomeno culturale e un classico senza tempo. La critica accolse favorevolmente il film. Il New York Times lo descrisse come una metafora dell'America nei primi anni Sessanta, lodando la rappresentazione di un'epoca passata, caratterizzata da buone intenzioni e prosperità. Tuttavia, le opinioni non furono unanimi. Alcuni apprezzarono la performance e lo sviluppo del personaggio di Jennifer Grey, mentre altri criticarono la prevedibilità della trama. Nonostante ciò, il film riuscì a conquistare il pubblico, superando le aspettative demografiche e attirando anche un pubblico adulto, grazie al suo fascino nostalgico e ai temi toccanti. Il successo del film si estese anche oltre il cinema, influenzando corsi di danza in tutta l'America e ispirando attività a tema nei luoghi delle riprese. Il resort dove fu girato il film organizza weekend tematici, con lezioni di danza, tour guidati delle location, proiezioni del film, feste a tema e giochi sul prato, offrendo ai fan un'esperienza immersiva simile a quella del film. Il Mount Holyoke College ha anche integrato Dirty Dancing nelle sue tradizioni, proiettandolo ogni anno per le matricole, sottolineando la battuta Baby inizierà a frequentare il Mount Holyoke in autunno, dimostrando l'importanza del film per la comunità del college. Dirty Dancing ha inoltre ispirato numerosi adattamenti in vari formati mediatici. Ad esempio, nel 1988, si tenne un tour musicale dal titolo Dirty Dancing Live in Concert, che toccò 90 città in tre mesi, con esibizioni di artisti come Bill Medley ed Eric Carman, ampliando ulteriormente l'eredità musicale del film. CBS lanciò una serie televisiva settimanale nello stesso anno, con Melora Hardin nel ruolo di Baby e Patrick Cassidy nel ruolo di Johnny, ma lo show venne cancellato dopo dieci episodi. Nel 2004 uscì un prequel cinematografico intitolato Dirty Dancing Havana Nights, con Romola Garai e Diego Luna, ma nonostante un cameo di Patrick Swayze, il film ricevette critiche prevalentemente negative. Nello stesso anno debuttò anche la versione teatrale Dirty Dancing The Classic Story on Stage, con Eleanor Bergstein alla guida del progetto, ottenendo grande successo commerciale e recensioni positive, con esibizioni sold out in paesi come Australia, Germania e nel West End di Londra. Il successo senza precedenti del film non solo ha creato una sua eredità duratura, ma ha anche proiettato Swayze verso la fama internazionale, facendogli ottenere ampi consensi e una nomination ai Golden Globe. Ruoli successivi, come quello in Il duro del Roadhouse del 1989, consolidarono ulteriormente il suo status di protagonista a Hollywood, dimostrando la sua capacità di dominare lo schermo con fascino e talento innegabili. Patrick Swayze continuò a conquistare il pubblico con le sue interpretazioni avvincenti per tutto il decennio degli anni 90. Nel thriller romantico Ghost, uscito nel 1990, Swayze offrì un'interpretazione memorabile di Sam Witt, ricevendo elogi dalla critica e una nuova candidatura ai Golden Globe grazie alla sua recitazione sfumata, affiancato da Demi Moore, Whoopi Goldberg e Tony Goldwyn. Ghost si affermò come il film con il maggior incasso dell'anno, toccando il cuore degli spettatori di tutto il mondo e lasciando un segno indelebile nella cultura popolare. La celebre scena in cui Swayze e Moore lavorano insieme al tornio da vasaio è rimasta impressa nella storia del cinema, simboleggiando l'appeal senza tempo e la profondità emotiva del film. Sfruttando il successo di Ghost, Swayze dimostrò la sua versatilità nel thriller d'azione del 1991 Point Break, recitando al fianco di Keanu Reeves. La sua presenza magnetica sullo schermo gli valse ulteriori riconoscimenti, consolidando la sua reputazione come protagonista a Hollywood. Il suo fascino irresistibile e il suo talento indiscusso gli valsero il titolo di uomo più sexy del mondo secondo la rivista People nel 1991, cementando il suo status di idolo del periodo. Questo riconoscimento, assegnato ogni anno, rappresenta un punto di riferimento nella cultura pop per quanto riguarda l'attrattività maschile, evidenziando personaggi celebri dotati di carisma, fascino e avvenenza. La nomina di Swayze nel numero del 22 luglio 1991 rappresentò un momento significativo nella storia di questo riconoscimento. All'età di 38 anni, Swayze incarnava non solo la bellezza fisica, ma anche una rilevanza culturale e un fascino trasversale. Celebre per il suo talento di attore, ballerino e musicista, Swayze conquistò il cuore del pubblico con la sua presenza scenica magnetica e il suo carisma innegabile. Oltre al suo aspetto affascinante, le interpretazioni di personaggi iconici in film come Dirty Dancing e Ghost consolidarono il suo status di fenomeno culturale. Nel 1997, Swayze fu onorato con una stella sulla prestigiosa Hollywood Walk of Fame. Tuttavia, la sua carriera subì una battuta d'arresto nello stesso anno, quando subì gravi infortuni durante le riprese di Letters from a Killer per HBO. Nonostante avesse riportato fratture multiple e lesioni ai tendini, Swayze dimostrò una grande forza d'animo nel suo recupero, tornando sullo schermo nel 2000 con il film Forever Lulu al fianco di Melanie Griffith. La sua versatilità come attore emerse ulteriormente nel 1995 con il film A Wong Fu, grazie di tutto. Julie Newmar, in cui interpretava uno dei tre drag queen rimasti bloccati in una piccola città. Il suo impegno in ruoli così diversi evidenziò la sua dedizione all'arte e consolidò il suo status di figura amata e rispettata nell'industria dell'intrattenimento. Tuttavia, dietro il fascino che Swayze mostrava sullo schermo, si nascondevano demoni personali e segreti sepolti. Nonostante il successo esteriore, Swayze lottava con problemi interiori, tra cui una battaglia decennale contro l'alcolismo iniziata dopo la morte del padre. Queste difficoltà, spesso celate al pubblico, hanno influenzato profondamente il suo percorso, sia come attore che come uomo. Un elemento centrale nella vita di Swayze era la sua natura competitiva e il costante desiderio di approvazione, in particolare da parte del padre. Cresciuto in una famiglia texana tradizionale, Swayze sentiva il peso delle aspettative familiari che lo spingevano a eccellere in ogni impresa. Questa ricerca di riconoscimento alimentava la sua determinazione a trionfare a Hollywood e lungo la sua carriera non cercava solo successi professionali, ma anche quell'approvazione paterna che sembrava irraggiungibile. Tale impulso si rifletteva nelle sue interpretazioni, caratterizzate da un'intensità e una passione che risuonavano profondamente con il pubblico. Tuttavia, nonostante i suoi traguardi, Swayze rimase tormentato dal senso di aspettative non soddisfatte. Quando suo padre morì, questo dolore lo devastò. Ha affrontato apertamente i problemi legati all'alcolismo nel suo memoir postumo Time of my life, dove rivelava di aver bevuto quantità enormi per quasi un decennio. Sebbene agli occhi del mondo sembrasse avere tutto, internamente lottava contro demoni personali apparentemente insormontabili. In un toccante spezzone del documentario I am Patrick Swayze, l'attore confessava di sentirsi perseguitato da queste battaglie interiori. Questa lotta influenzò anche il suo matrimonio con Lisa Niemi, che aveva sposato nel 1975. Sebbene il loro rapporto fosse basato sull'amore, non era privo di difficoltà. Niemi descrisse la loro vita emotiva come una sorta di montagne russe, con Swayze che alternava momenti di entusiasmo a periodi di profondo crollo emotivo quando rimaneva solo. Nonostante ciò, il loro legame resisteva. Nel 1993, Swayze cercò aiuto per la sua dipendenza dall'alcol, ma il percorso verso la guarigione fu pieno di ostacoli. Una ricaduta nel 2003 spinse Niemi a lasciare temporaneamente la loro casa, fino a quando Swayze decise di intraprendere nuovamente la strada della riabilitazione. Nonostante i suoi demoni personali, la vita di Patrick Swayze fu segnata dall'amore, dalla resilienza e dalla costante ricerca di sé. Con Lisa, con cui condivideva un legame profondo, rimase sposato per 34 anni, fino alla sua morte. Anche se non ebbero figli, la coppia attraversò insieme alti e bassi, inclusa la sofferenza per un aborto spontaneo. Il loro amore ebbe inizio nel 1970, quando Swayze, allora diciottenne, conobbe Niemi, che aveva 14 anni e frequentava lezioni di danza tenute dalla madre di lui. Questo incontro diede il via a una partnership che sarebbe durata tutta la vita. Swayze rivelò in un'intervista del 2008 che Niemi era stata la musa ispiratrice della sua canzone She's Like the Wind del 1987, a testimonianza della profonda connessione emotiva e dell'influenza che lei aveva sulla sua espressione artistica. Nel suo percorso di esplorazione personale, Swayze si avvicinò anche a diversi percorsi spirituali, dimostrando una mentalità aperta verso le questioni di fede e credenze. Si immerse in pratiche come il buddismo Sokha Gakkai, l'est training, la terapia e la meditazione trascendentale, cercando di comprendere e coltivare diversi aspetti della propria identità. Nonostante lo scetticismo incontrato nel suo Texas natale, Swayze rimase fermo nella sua ricerca di illuminazione, abbracciando la diversità delle dottrine religiose. La lotta di Swayze contro l'alcolismo, durata un decennio dopo la morte del padre, divenne una testimonianza pubblica della sua resilienza e del desiderio di superare le avversità. Cercò conforto e guarigione ritirandosi dalla ribalta negli anni 90 per concentrarsi sulla sua riabilitazione e dedicarsi alla sua passione per l'allevamento di cavalli arabi nei suoi ranch in California e a Las Vegas, New Mexico, tra cui il suo cavallo più prezioso, Tummen. La sua passione per il volo e il suo spirito avventuroso lo portarono a una serie di incidenti che fecero notizia. Nel 2000, durante un volo a bordo del suo Cessna 414, Swayze affrontò un problema di pressurizzazione che lo costrinse a un atterraggio di emergenza in Arizona. Anche se uscì illeso, le indagini rivelarono tracce di alcol in compartimenti esterni all'aereo, non accessibili durante il volo. Un secondo incidente aereo nel 2006, in compagnia di Niemi, mise nuovamente alla prova la loro determinazione, ma riuscirono a eseguire un atterraggio sicuro nonostante la perdita di potenza. Dopo questo episodio, la coppia decise di acquistare un nuovo velivolo, un Beechcraft Super King Air, per proseguire le loro avventure. Nonostante il percorso tumultuoso, la vita di Patrick Swayze ha rappresentato una storia di resilienza, amore e costante ricerca di sé, lasciando un'eredità indelebile che va oltre il grande schermo. Anni dopo la sua scomparsa, l'eredità di Swayze rimane sfaccettata, comprendendo il suo straordinario talento come attore, ballerino e musicista, oltre al suo duraturo impatto sulla cultura popolare. Tuttavia, il suo percorso non è stato privo di difficoltà. La morte del padre lo colpì profondamente, influenzando la sua visione della vita e alimentando la sua determinazione a raggiungere il successo. La battaglia di Swayze contro l'alcolismo che ha affrontato apertamente rappresentava un altro ostacolo, riflettendo i suoi demoni personali e il tumulto interiore. Nonostante queste sfide, la sua resilienza e determinazione lo portarono a ottenere un successo straordinario a Hollywood. I suoi ruoli iconici in film come Dirty Dancing e Ghost hanno consolidato il suo status di attore amato e rispettato guadagnandogli il plauso della critica e un ampio riconoscimento. La sua capacità di trasmettere emozioni autentiche sullo schermo ha toccato profondamente il pubblico cementando il suo posto nella storia del cinema. Purtroppo la sua battaglia contro il cancro al pancreas portò alla sua prematura scomparsa. Tuttavia anche dopo la morte il suo lascito continua a risuonare tra i fan di tutto il mondo. La sua influenza perdura nella popolarità delle sue pellicole nei tributi resi da colleghi e professionisti del settore e nell'affetto dei suoi numerosi ammiratori. Inoltre l'impatto di Suede va oltre l'intrattenimento. La sua apertura riguardo alla lotta contro l'alcolismo e il suo coraggioso confronto con il cancro hanno ispirato innumerevoli persone ad affrontare le proprie sfide e a cercare aiuto quando necessario. In questo senso la sua eredità è un faro di speranza e resilienza ricordandoci l'importanza della perseveranza e di vivere la vita a pieno. La rilevanza di Patrick Swayze persiste molto tempo dopo la sua scomparsa grazie al segno indelebile che ha lasciato nel mondo con il suo talento il suo coraggio e il suo spirito indomabile. Rimane una figura amata nella cultura popolare apprezzato dai fan per i suoi contributi al cinema e ammirato per la sua forza di fronte alle avversità.